Ma che c***o vuoi da me? Zitto, non sento che cosa, è il gioco? Ma fico di se sei entrato per ascoltare il gioco, ma che è questa provocazione da prima elementare? Ma ti pare poi che ci casco? Mi ho preso in giro per il naso e le orecchie mentre guardavo i video ZV Jackson? Eh, infame! Non parlare che non sento i dialoghi, cioè la cosa più insopportabile che si possa dire a qualcuno che gioca a Red Dead Redemption, sa le cose a memoria! Non mi farà alzare la voce che è tardi, eh! Non chiamarlo Giambi, Giambi, J-Bunits Giambi Mi sta associando a Mr. Patata? Mr. Poteto di Toy Story? Serena ti vuole, ma chi c***o è Serena? Oh, vedi! E si ingrandisce pure, pure in tempo reale! E si ingrandisce pure, pure in tempo reale! È molto, è molto interessante questo video Questo karaoke Sanremo, questa 5 shot di Riccardo Dose è bellissima Molto, qui ottimo tiro anche Buonissimo Se n'è andato? Che stava facendo con la foto di Mr. Poteto? Perché se apro la stream di questa testa di c***o era la foto di Mr. Poteto sulla mia faccia? Si va a letto? Vi ha consigliato di dirmi di andare a letto perché io ho chiesto se se n'è andato? È realmente successo questo? Ma come faccio a intuire secondo voi tutte le p***ate che dice? Perché pensate che lo conosca da anni? O perché è un coglione? Eh? Che c***o c'è da ridere? Che c***o c'è da ridere? Perché ridono tutti? Oh, girati a destra Dai Perché ridono tutti? Girati a destra Ma fammi lavorare in santa pace, cretino Ma che modo è? Ma fammi lavorare in santa pace Ma che è sta cosa? Ma dove siamo? All'asilo Oh Togli sta cosa 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 Reagisci a fratino bene? Gira Guarda 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 la tua sinistra Reagisci a fratino bene? Guarda la tua sinistra Gira Guarda 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 la tua sinistra Ma che sono la tua scimmia maestrata? Dio Oh Vai a fare le tue cose Sono la tua scimmia maestrata Vai a fare le tue cose Marion Bug Si è messo a scontornare Mister Poteto Per mettergli gli occhi E i miei baffi Che completano i suoi baffi Col mio mento Non è alcun bug Ma poi dove c***o Nel magazzino della Lito La stream maresto cristiano? Maresto cristiano Maresto cristiano Hai finito? Sono le due di notte Ma dove c***o è ragazzi? Ma è una discarica Ma dove c***o è? No ragazzi Seriamente Cioè il custode Di uno Di un orfanotrofio Gli ha regalato il magazzino Per un anno Che fa? No Non sono stato Io Non sono stato io Io impazzisco No Non sono stato io Non sono stato Non sono stato io Ragazzi si legge Dai I moderatori lo leggono KG Prime Ha bannato Gianmarco Ma poi cappa Ma tu non sei drogato a Bologna Ma entri soltanto Per crearmi i casini Con i colleghi C***o Ma dove c***o è? Non ci sentiamo da 48 ore È l'unico contatto che abbiamo È te che banni Gianmarco Di faccia a faccia Sotto al mio naso Si chiama Fichera Rincoglionito Non sai manco Qual è il suo cognome Sbannate Gianmarco Che lo compra seriamente Vai Grazie K L'ha sbannato subito Dopo che ha detto Questa minaccia Perfetto Abbiamo Abbiamo finito Abbiamo finito Perfetto Chiediamo scusa Che Peno bannato Blur Eccetera A posto Basta 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 così Basta così Risolto Non l'ho bannato io Gianmarco L'avete visto tutti Palese Cioè stavo facendo altro Stavo parlando Sono loro che mi creano problemi Con i colleghi Non è la prima Non è la seconda Non è la terza volta A posto Risolto Ha detto Mario L'ho letto Squisto della fucina Che ti ha anche subito Insultato in un tiktok Mario l'ho letto Squisto della fucina Mi ha insultato L'acquisto della fucina Con un tiktok Digli di succhiarmi il c***o Lui e tutta la sua Tredicesima generazione Ma che c***o vuole da me Chi è che mi ha insultato Ma che c***o vuole da me Chi è che mi ha insultato No Non ho visto Mi sta trollando 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 Ma perché è sempre arrabbiata Si chiede un ragazzo utente Di Gianmarco In mezzo a un mare di risate Non ha pure scambiato il mio gender C'è una confusione totale Una confusione totale Che c'è? C'è una confusione totale Oh lo dici a tua sorella Ma che vuoi da me? Dai Voglio vedere i filmati Oh lo dici a tua sorella Ma che vuoi da me? Vuoi vedere i filmati? Ma se stai Se stai streaming Ma con quale Con quale terzo occhio Ti guardi i miei gameplay? Fatte i c***o tuoi Ma con quale terzo occhio Ti guardi i miei gameplay? Ma si sta smanettando Che fa? Non mi segna Nudità Che fa? Comportamenti sessuali Che coinvolgono Oh oh Fermati 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 Copia indirizzo dell'imm... Gianmarco Gianmarco dai C'è un limite a tutto Non puoi mandargli sta segnalazione Gli sta mandando nudità E contenuto sessualmente esplicito Mi sta segnalando E gli sta mandando il link Dell'immagine di Mr. Potato Basta così Dai Basta così Va bene Va bene che non succede niente Però Basta così Dai Eh Sono salvo Vedi che ti ridevano in faccia Mica mi bannavano seriamente Se gli mandavi Mr. Potato Tu lo sai già di che cosa sto parlando? Attento Cioè Allora starò attento Ma io sto attento Da quando conosco soggetti come te Sto attento a ogni c***o di minuto della mia vita Perché io pensavo di stare cillato Pensavo che si fosse oltrepassato L'orario per le gags E per stare in guardia con la gente Mentre quello mi sniffa nelle cuffie Con l'ier rape All'una e mezza di notte Poi arrivi tu Fammi sentire i dialoghi Mentre sei in streaming Mentre stai guardando Dile Campana sound Ma vai a cagare tu Le campane I dialoghi di Red Dead Redemption Il tuo utente Che chiede perché sono sempre arrabbiata E tutti sti Sti cristiani Che ridono istericamente Per colpa di un povero ragazzo Che viene importunato Dal loro streamer preferito Ma che c***o di discorsi sono Ma che c***o di intrattenimento è questo Io stavo nella mia pace A fare la voce calda A fare la voce sexy E devo far di nuovo la figura del coglione Ma andate a cagare Sia voi Che loro Sia Ha rimesso Mr. Potato Ciao Mario Ciao 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 Buonanotte a tutti Ciao Vai a fare in culo Ciao 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 Sì Ciao Buona serata a tutti Ciao 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 Vai vai a fare in culo Ciao Buonanotte Ciao 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 Ragazzi Ciao a tutti Buonanotte 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 Eh Ciao Ciao Va bene Francesco Totti contro la Lazio Ciao 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 Eh sì Gilardino Batistuta Batistuta Ciao 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 Buonanotte Porca Che stra... Ciao 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 Si ha scontornato il naso, le orecchie, mi ha messo gli occhi di Mr. Potato che tra l'altro Vabbè, basta Porca... le due di notte Dio c***o Pro A